Ciao a tutti, sono Giuseppe Pasquarelli e oggi sono qui a presentarvi un fantastico progetto che si chiama Digital Builders. Allora, prima di tutto vi dico che una volta che avete finito di vedere il video, contattate la persona che vi sta facendo vedere questa guida per fissare una call, una call che vi permetterà di sviscerare un po' di cose che verranno fuori all'interno di questa guida. Ci sarò anche io sicuramente per darvi un supporto e rispondere a tutte le vostre domande. Quindi, che cos'è Digital Builders Italia? È la community italiana di imprenditori digitali che grazie al web aiutano liberi professionisti, networker, aziende, ma anche amici ad avere successo sia professionale economico, di crescita personale grazie ad internet. Qual è l'obiettivo che ci siamo prefissati? Quello di aiutare a raggiungere più clienti per il tuo business, grazie a delle tecniche specifiche di digital marketing. E se non hai un tuo business, ora imparerai come crearne uno completamente da zero. Scoprirai come le aziende che si promuovono online sfruttano un sistema innovativo che trova in automatico i clienti per loro. Scoprirai come questo progetto può portarti il guadagno che desideri, sul breve, medio e lungo periodo, senza che diventi un esperto o un tecnico di questo settore. In questo momento il mondo sta cambiando, stiamo vivendo mesi molto difficili per qualcuno e molte persone si stanno avvicinando all'online perché pensano che sia una delle soluzioni per migliorare la propria vita ed effettivamente è questo. Questo mondo è talmente veloce, sta cambiando talmente veloce che può aiutare tutti ad avere uno stravolgimento. Molte aziende, molte aziende tradizionali fanno fatica a trovare nuovi clienti per i loro prodotti e i loro servizi. Perché? Perché utilizzano metodi estinti, quali il volantino, il cartellone o la radio. E questo è un problema. È una spesa non quantificabile. Non sappiamo di fatto se le vendite aumentano grazie al cartellone, ai volantini o alla radio. E questo è gravissimo per un'azienda perché non ha nessuna certezza sui risultati della pubblicità. Spesso è in perdita e non lo sa nemmeno. Invece che metodi utilizzano i colossi dell'industria? L'online o precisamente il digital marketing, ovvero promuovono i propri prodotti e servizi con internet. Come? Facendo inserzioni pubblicitarie sui social, utilizzando delle mail automatiche, costruendo delle pagine di vendita di prodotto, dei video e molto altro. Vi faccio un esempio. Se spendo 100 euro nel sistema di marketing e acquisisco due nuovi clienti, essendo un avvocato, un fisioterapista o vendendo anche prodotti di altre aziende, so precisamente quanto guadagno da questi due clienti. Potresti dire lo stesso per il cartellone pubblicitario o la radio? Non penso. Anche tu dovresti farlo. Nel tuo piccolo dovrai necessariamente adattarti e sviluppare la tua strategia di digital marketing come fanno le grandi aziende. Ma nessuno ti insegna veramente come farlo praticamente e nessuno ti dà gli strumenti di marketing perché costano tantissimo. Quanto costano? E ora vi faccio degli esempi. Questo è uno dei costruttori di funnel più conosciuti al mondo. costa dagli 85 euro al mese ai 285 euro al mese. Quest'atto invece è un risponditore automatico di mail professionali. Costa dai 12 euro al mese ai 1199 euro al mese. Che cosa vuol dire questo? Che non puoi creare un tuo business online? Non è vero. Perché in questo momento ti sto per presentare Builderall. Builderall è la piattaforma più grande del mondo di marketing all in one. Troverete all'interno costruttori di siti web, potete inviare mail infinite ai vostri clienti, potete avere un hosting incluso, potete costruire dei funnel di vendita, potete costruire un e-commerce con Magento, che è un'applicazione fantastica. Potete avere dei chatbot automatici, potete costruire delle applicazioni, potete avere la vostra piattaforma di videocorsi e tanto, tanto, tanto altro. Qui ho preso una strapolazione delle 32 applicazioni che ci sono all'interno di Builderall e ora ve ne faccio vedere una. Si chiama Ceta. Ceta è l'applicazione che serve a modificare i siti, ok? Qui ho preso un template già pronto, delle centinaia di siti e di template già precaricati. È un template di una pizzeria. Caricato la pagina, basta cliccare sull'immagine, vi verrà fuori il riguadrino che vi fa capire che l'immagine è stata precaricata con questo buon bordino blu. Cliccando il tasto destro del mouse vengono fuori tutte le operazioni che potete fare. Vi faccio vedere come è facile andare a togliere il sfondo. Andate su Modifica immagina, aspettate che l'applicazione carichi l'operazione che avete richiesto. all'interno di questo troverete le immagini che avete per caricato. Io ne ho una di prova per farvi vedere come è semplice. Basta cliccarla, andarla a salvare, eccetera, pensa a fare tutto il resto. La stessa cosa potete farlo anche per la descrizione con il testo che vi dà il cliente o quello che scegliete voi. Come ho fatto su questa immagine potete farlo qui, come magari andare a descrivere un prodotto o una pizza che fa questa pizzeria con gli ingredienti. Potete andare a dire che fa oltre a questo anche delle specialità o magari delle farine raffinate, tutti i servizi che ci sono nella pizzeria. Potete andare a descrivere magari lo staff mettendo le foto e la descrizione di ognuno per poi arrivare fino in basso dove troviamo i contatti e la mail perché qualcuno magari vorrà iscriversi alla mail list della pizzeria per ricevere i continui aggiornamenti e i continui sconti. Vi ho fatto vedere come veramente semplice modificare le pagine web con CETA. Possiamo fare la stessa cosa per i fan con dei template già pronti. La mail professionale di Builder che si chiama Mail Boss quindi potete caricare tutte le vostre liste di mail, tutte le mail dei vostri clienti per iniziare un rapporto di follow up. Quindi a cosa ti serve Builderall? A promuovere la tua azienda o la tua attività. Potete promuovere dei prodotti in affilazione di altre aziende e guadagnare una commissione su ogni vendita. Come? Ci sono tanti siti che permettono di creare un rapporto di affiliazione. Poi dovete solo costruire un piccolo funnel, promuoverlo bene, venderlo. Una volta che l'avete venduto queste piattaforme vi danno una commissione sulla vendita. Qui c'è un esempio. Questo esempio vi fa vedere che su 300 vendite questo ragazzo del corso ha guadagnato una commissione di 5.176 euro. Ma non solo. Potete anche diventare dei online marketer, quindi dei professionisti dei social, diventare un social media manager, aiutare quindi le aziende e o voi stessi a portare nuovi clienti e più fatturato. E più potete anche promuovere Builderall che in questo momento è molto profittevole. Come è strutturato il piano compensi di Builderall? Il piano compensi di Builderall è strutturato su due livelli. Vi faccio un esempio. Questo sei tu. Se attraverso te entra a far parte del progetto un cliente e quindi rappresenta la vendita diretta, tu otterrai il 100% delle entrate più il 30% del rinnovo mensile a partire dal secondo mese. Se poi attraverso il diretto entra un cliente e per te rappresenta la vendita indiretta, tu otterrai il 30% delle commissioni mensile a partire dal secondo mese. Quanto costa Builderall? Builderall costa 73,08 euro al mese. Per chi è Builderall? Builderall è per i networker che vogliono monetizzare e velocizzare il loro processo di crescita, chi fa pilot marketing perché abbiamo il costruttore di funnel e mail marketing con vittore automatico, per i liberi professionisti che vogliono trovare i nuovi clienti, persone che invece vogliono un guadagno extra perché vogliono guadagnare con la promozione di Builderall. Ora vi parlo un po' del progetto che è il progetto Digital Builders. Digital Builders offre un gruppo Facebook privato che ha un valore di 85 euro al mese, delle Zoom di presentazione che hanno un valore di 50 euro al mese, delle Zoom private che hanno un valore di 150 euro al mese, un supporto H24 che ha un valore di 50 euro al mese. Il pacchetto Digital Builders è il corso che cosa vi darà, le basi del digital marketing, come lavorare con Facebook e Instagram, scoprire i segreti dell'affiliate marketing, applicare il digitale per il vostro network, i tutorial degli strumenti di Builderall, le strategie esclusive e in continua evoluzione, delle live di presentazione e delle live tecniche. Sono 120 lezioni con più di 80 ore di formazione. Tutto questo vale 2000 euro più 335 euro al mese. Ma siccome noi crediamo nelle persone, vogliamo che questa cosa, quindi tutto il corso di formazione, tutto il supporto sia sempre gratuito. Quindi l'unica spesa che dovrai affrontare è quella di Builderall, cioè quella degli strumenti che ti serviranno poi per iniziare l'attività, cioè 73,08 viva inclusa. Vi faccio fare un excursus della piattaforma che i ragazzi offrono all'interno del corso. Questo è il corso di formazione, ci sono tutti i moduli che vi ho descritto, dai tutorial, tutti gli strumenti che servono per lavorare, il primo modulo quindi come diventare un social media manager, il secondo modulo è quello dell'application marketing e il terzo modulo è quello della promozione. Ve lo faccio vedere, lo scorro velocemente per farvi vedere che i video esistono, vi offriranno anche un attestato di partecipazione e una volta concluso il corso potrete con le competenze anche affrontare l'esame di Google. È un esame gratuito, ci sono tante domande da rispondere però potrete avere anche la certificazione Google con le competenze che trovate all'interno del corso. Vi voglio far vedere che il video è reale, cioè parte e in questo caso c'è Lorenzo Campo che è uno dei ragazzi che ha fondato Digital Builders e che in pochi mesi è riuscito a cambiare la sua vita. Vi dico che in pochi mesi lo sta facendo anche per me e quindi ringrazio in questo video Lorenzo per quello che mi sta dando e tutti i ragazzi di Digital Builders per l'opportunità fantastica che mi stanno dando. Cosa devi fare adesso? Adesso devi contattare la persona che ti ha fatto vedere questo video e fissare una call su Zoom per raccontarti tutte le novità che ci sono e per approfondire tutte le questioni che potrebbero venire fuori guardando questa guida. quindi devi iniziare contatta la persona che ti ha fatto vedere questo video ci vediamo in una Zoom grazie e arrivederci.